Ciao a tutti! Quello non se ne andava così io ho cominciato. Ciao a tutti! Buongiorno, benvenuti, come andiamo? Oggi venerdì bello questo giorno, ci piace il venerdì, vero? Boh, almeno piace a voi che avete un weekend magari. Adesso ribadisco che vorrei lanciare l'hashtag della dottoressa Fossi. Salva la domenica di un dietista, comincia martedì, eh? Così? Ciao Emanuele, ciao a tutti, benvenuti. Ragazzi mi deve rovinare sempre tutto. Eh, bello da dire. Quindi, benvenuti, ben cominciati, non lo so, ben qualcosa. Ciao! Allora, vi racconto della mia colazione di oggi. La colazione di ieri mi è piaciuta talmente tanto che oggi ho fatto una leggera variante, ma l'ho fatto uguale, lo so, lo so, vi ho educato a più varietà di così, ma... Cioè, mi piaceva, ho detto anche perché, se voi mi avete ascoltato, ciao Maria, ciao Luana, ciao Maria, l'altra, se voi avete sentito ieri, avevo un vasetto di yogurt aperto e quindi che fai? Lo lasci aperto in frigo? No, lo usiamo! E... Uh, non ho fatto la foto! Pa, 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 pa! Allora, faccio così, sto un po' così. Così, Eralda, domani, cioè, poi si farà uno screen di questo momento e metterà questa foto, perché ormai me lo sono dimenticato, cioè, o sostacco lo mangio, oppure... Eh, è andata così, gente. Lo sapete che io sono molto easy nelle cose, rilassata, ecco. Allora, che cosa vi ho fatto vedere? Come vi ho detto ieri, ieri ho fatto un tortino di grillo e yogurt e caffè, oggi ho fatto il tortino al cacao, perché mi è piaciuto proprio tanto e quindi vorrei rifarlo. Vorrei... l'ho rifatto. Sì, magari se lo facciamo così e non fuori campo, lo vediamo tutti. Aspettiamo ancora un momento, perché la temperatura a microonde lava è veramente un attimo. Ciao Emanuela, ciao Luana. Ho detto che avrei aspettato... Oh, ho aspettato. Per fortuna, vi diceva meno di quello che sembrava. Buono, anche questa versione mi piace. Perché mi è piaciuto tanto? Perché mi è piaciuta tantissimo la consistenza che lo yogurt ha dato al mio tortino e quindi non ho voluto aspettare per farne un altro, dato che avevo tutti gli ingredienti. Allora, cosa abbiamo messo in questo tortino? Solito cucchiaio di farina tipo 2, cucchiaio di farina di grillo. Sì, farina di grillo. Oh mio Dio, questa mangia i grillo. Sì, è una roba lunga. Però ieri poi non ho postato la vecchia colazione sotto quella di ieri. Poi cosa ci abbiamo messo? Quindi, nel vostro contenitore dove metterete il tortino, dove cuocerete il tortino, mescolate le due farine, una punta di lievito per dolci, un cucchiaino di eritritolo, un cucchiaino di cacao in questo caso e il mezzo vasetto di yogurt. Poi, infornate nel vostro microonde, al solito vedete voi le temperature, cioè deve essere un po'... Che bella se stamattina grilli a parte. Maria, grazie. Sai, in Giappone non fanno complimenti. Sai perché? Perché dire a qualcuno che bello che sei oggi vuol dire che gli altri giorni che l'hai visto era terribile e tu hai ragione, gli altri giorni... Non è che... Te l'ho detto, ho postato un periodo che non è che torno tanto in forma. Comunque, grazie. Comunque, non andando a noi. Mescolate tutto e infornate un minuto e mezzo, un minuto, un minuto due, un minuto due. Quello che fa, secondo voi, è... E basta. E poi ve lo maniate. Cosa dobbiamo fare ancora? Cioè, non è che dobbiamo aspettare ore, eh? Sì, la consistenza di questo tortino mi fa impazzire. Ciao, Silvana. Ciao, Silvana. Si accettano ancora proposte per la colazione numero 100, eh? Perché non ho ancora definito, non so ancora... Non lo so. Pensavo di fare... Non lo so. Si è mica capito che non so bene che cosa pensavo di fare. No, così a pelle. Non so. Però, boh, anche una rassegna di quello che abbiamo fatto. Potrebbe essere carino. Ciao, Asia. Ciao. Mi inventerò qualcosa. L'idea di farla a spiaggia lo sapete che non è che... La spiaggia. Ma io sono allergica. E voi che mangiate oggi? Ciao, Marisa. Quella è il suo Riccardino e mi mettono i cuori. Riccardino è il gatto. Gattone bellissimo. Comunque, ieri ho ricevuto altri due regali. Perché voi mi amate. Le tazzine che mi regalate, le tazze, mi sono meravigliose. Cioè, guardate questa. Ecco, un galletto. E poi, Sara, ieri, guardate cosa mi ha regalato. Eh? Tanto carino. Non so se è più carina. Sara o la tazzina? Sono tanto adorabili. Ciao, Marisa. Quindi che mangiate voi? Ah, sapete che mi è proprio piaciuta. Domani prometto che non faccio un tortino. Insomma, va bene, facciamo tortini tutti i giorni. Cambiamo un ingrediente. Bella la vita, no? Abbastanza. Mi piacerebbe. Perché... Voi non lo sapete, ma giuro che io ci studio, eh. Tortino con farina di mandorle e ciliegie cotte. Mmm, chissà che buono. Brava, brava, Silvi. Quindi, si accettano sempre proposte per la colazione numero 100 di lunedì? Mmm. Una cosa la dobbiamo fare. Comincio a dirvelo oggi. Mettetevi... Cioè, preparatevi. Io vi darò un orario specifico, così non avete più il problema che... No, ma chissà quando va, non riesco, non mi avvisa Facebook. Facciamo un orario. Che potrebbe essere... Lunedì facciamo le 9. Così è un po' più tranquillo. Cioè, magari chi è già in ufficio riesce a... Facciamo in modo però di condividere tutti. Tanti, eh. Condividiamo tutti lunedì, ok? Così... Cioè, facciamo un po' di caos. Ci facciamo volere male dai nostri amici di Facebook. Dai, vi va? Dittelo a chi è che non c'è online. Lunedì condividiamo tutti. Mmm? Così facciamo una roba diversa. Brutte notizie, il mio tortino è finito. Già. E quindi dovrò andare a lavorare. Vabbè. Ci tocca. È stato un piacere, come al solito. Ciao Cristina. Cristina, non perdere la diretta di lunedì. Bisognerà condividere. E... E vi direi che ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.